Il giorno 28, volando sul cielo di Tobruk durante un'azione di guadagnamento nemica, l'apparecchio pilotato da Italo Balbo è precipitato in fiamme. L'aereo in testa, volando a basso, era un bersaglio allettante. Della confusione pochi si accorsero che si trattava di un tri-motore, diverso da un bi-motore bombardiere inglese. Un mitragliere nervoso sparò a qualche colpo. Altri lo seguirono. Il primo aereo era in difficoltà. Il pilota avvicinato sulla pista per atterrare era un bersaglio troppo allettante. Per quegli eccitati mitraglieri, un proiettile! Un proiettile con cui in pieno il bombardiere fummo fiamme, l'aereo virò sul fianco sinistro e precipitò su una colunina ed esplose. Ne abbiamo palciato uno! Un proiettile con cui in pieno il bombardiere fummo fiamme. Un proiettile con cui in pieno il bombardiere fummo fiamme. Un proiettile con cui in pieno il bombardiere fummo fiamme. Un proiettile con cui in pieno il bombardiere fummo fiamme. Un proiettile con cui in pieno il bombardiere fummo fiamme. Un proiettile con cui in pieno il bombardiere fummo fiamme. Un proiettile con cui in pieno il bombardiere fummo fiamme. Un proiettile con cui in pieno il bombardiere fummo fiamme. Un proiettile con cui in pieno il bombardiere fummo fiamme. In quel rumbo mi fareva giudire tra la terra e il cielo tutto il fremito del grande popolo nostro. Un grande condottiero, un valoroso avviatore che il fato mise dalla parte avversa. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info